Visar, Delegazione Tiguglio 5 Terre, è qui per rappresentare e promuovere i territori del Tiguglio e delle 5 Terre, in particolare dei vini delle 5 Terre. Siamo qua, li proponiamo in degustazione, abbiamo organizzato ben due degustazioni pubbliche, collettive, dove andiamo a conoscere il ciliegiolo, un rosso e poi andiamo ad approfondire il vermentino. Vitigno autoctono prodotto in maniera veramente splendida da molti produttori del nostro territorio. Sono vini assolutamente emozionanti, assolutamente appassionanti, che nascono dal lavoro di viticoltori eroici, che riescono veramente a trarre al massimo da quelli che sono i vitigni autoctoni, la bianchetta genovese, il vermentino, l'albarola, la pollera e chi più ne ha più ne metta. Abbiamo un territorio ricchissimo, abbiamo veramente tantissimi vitigni autoctoni. Grazie a tutti.